Un numero non trascurabile di pazienti non sa di essere malato perché attribuisce i sintomi a condizioni transitorie, sottovaluta, pensa che siano legati all'età perché molto spesso queste malattie insorgono nei pazienti anziani e quindi non si reca dal medico, non espone analiticamente questi suoi disturbi che non vengono identificati come malattia cronica e molto spesso si accorge in maniera acuta in occasione di una riacutizzazione o addirittura di un ricovero in ospedale deve avere una situazione molto critica. La difficoltà talvolta di accedere ai servizi diagnostici che non sono omogeneamente distribuiti sul territorio, a volte ci sono liste d'attesa molto lunghe per effettuare una valutazione spirometrica o un'emogas analisi arteriosa e questo è un problema estremamente importante perché se uno non può fare nei tempi dovuti un'indagine diagnostica c'è il rischio che poi questa indagine non la faccia più perché questi pazienti possono essere, se seguiti a domicilio, attraverso sistemi di telemonitoraggio, essere curati sempre con l'intervento dello specialista affiancato al medico di medicina generale anche da lontano, prima che si raggiungano livelli di gravità per i quali è necessaria l'ospedalizzazione, utilizzando sistemi di telemonitoraggio che consentono di rilevare anche con dei dispositivi da usare a domicilio, sia per quanto riguarda gli scambi gassosi, sia per quanto riguarda sistemi di misura della funzione respiratoria, per evidenziare alterazioni in una fase in cui ancora la criticità clinica non è particolarmente evidente e questo può evitare, impostando una terapia precoce e adeguata, il ricovero.